buongiorno a tutti e soprattutto buon weekend visto che è sabato prima di pranzo tiago motta appena finito di parlare in conferenza stampa pre inter juventus non si è assolutamente sbottonato a parte in una cosa per la prima volta da quando allena la juventus quindi da questa stagione ha detto in maniera molto chiara l'ho ripetuto due volte che le favorite per lo scudetto sono napoli e inter quindi mi fa anche particolarmente piacere perché io è da agosto che lo dico che per me le favorite sono inter e napoli la juventus secondo me non è una rosa completa secondo me tiago motta è stata consegnata una squadra monca perché gli mancano assolutamente dei giocatori di qualità centrocampo a meno che quelli che abbiamo si sveglino perché per adesso francamente se giochiamo con fagioli con mckenny e con locatelli abbiamo lo stesso centrocampo che avevamo già prima quindi gli acquisti sono stati inutili tra l'altro non ci sarà coppenas probabilmente non ci sarà da glass luiz non ci sarà nico gonzalez quindi quelli che mancavano con lo stoccar l'avevo detto proprio lui non ci sarà neanche con con l'inter quindi presumo anche da gas luiz perché da gas luiz con lo stoccar non è entrato in campo per infortunio per cui avremo ancora la possibilità di scegliere fra fagioli fra turam fra mckenny e appunto locatelli fra questi qui poi bisognerà vedere se farà giocare il dice dietro la punta o ancora ala perché gli è stata fatta la domanda appunto che non sia il caso magari di spostarlo appunto dietro a la uic perché verona ha reso molto bene in quella posizione mentre in altre partite è un po' defilato scompare difatti viene da tre prestazioni pessime il dice le ultime tre partite guarda caso lui ha giocato malissimo e il dice stato il peggiori in campo praticamente in tutte e tre almeno dal mio punto di vista ci mancherebbe altro non si è sbottonato gli chiedono sulla sua presenza la sua ex interiste interistità il fatto che è un ex dell'inter ha detto che lui è ex di barcellona ex del paris saint germain ex del genoa ex ha smorzato subito i toni ha fatto capire che lui non ne frega niente di dove ha giocato e che cosa ha fatto nel passato gli interessa il presente questo fa particolarmente piacere perché abbiamo un allenatore che non ha diciamo un occhio di riguardo per una squadra con cui ha vinto il triplete no che ci hanno ammorbato gli zebedei gli interisti per non so quanti anni questa menata del triplete che quello vero l'abbiamo fatto noi due volte non quello finto con la coppa italia per cui signori quando si parla di inter e gueto stiamo volta parla di una partita la prossima da vincere la prossima da portare dalla nostra parte la prossima come sarà poi la prossima mercoledì col parma la prossima poi quella che giocheremo dopo e via ancora e via ancora e via ancora bene questo è quello che ha detto tiago motta non ha detto niente di tanto durata poco 13 minuti domande banalotte hanno pronto a fargli domande sulla formazione ha sempre detto la vedrete domani per cui diciamo ha detto poco niente diciamo che l'ho trovato un po seccato anche perché ha detto che le sconfitte si devono mettere da parte le vittorie si devono mettere da parte e lui ha detto che i giocatori ultima cosa che dico aveva detto lui devono sempre andare in campo e vanno sempre in campo al 200 per cento dimostrando che non sottovalutano mai nessun avversario questo è importante perché capitato in passato che sottovalutano gli avversari abbiamo preso delle fregature sonore ora vengo a me a me sottoscritto alla mia interpretazione allora vi dico subito che la partita di domani la temo come non la temevo da tanti anni l'anno scorso quando noi siamo andati a milano con l'inter eravamo da un punto come quest'anno ero convinto che avremmo potuto dire la nostra nonostante allegri nonostante non gioco perché perché venivamo da un trend positivo dove l'inter vinceva noi vincevamo l'inter vinceva noi vincevamo l'inter pareggiava noi pareggiavamo l'inter vinceva noi vincevamo no non perdevamo praticamente mai non perdeva l'inter non perdeva la juve stavamo facendo una cavalcata tant'è che avevamo creato un bel solco di distanza dalla terza che era il milano mi pare 8 9 punti pensate un po l'inter il milano era 8 9 punti da noi ci ha scavalcato e superato ci ha dato anche dei punti alla fine del campionato perché siamo crollati per cui ho il sacco è ovvio provenendo da questa esperienza come si dice quando uno rimane scottato poi dopo ha paura anche dell'acqua fredda siccome io ho visto una partita pessima contro lo stoccardo una brutta partita con la lazio una bruttissima partita col cagliari e guarda caso sono le ultime tre che abbiamo disputato e secondo me la presenza di un solo centravanti in campo vlaovic che non ha mai inciso con l'inter tra l'altro l'anno scorso ricorderete ha stoppato male la palla un pallone meraviglioso che gli era stato dato che se probabilmente lo stoppava bene o metteva in difficoltà Sommer o faceva gol invece la buttata all'ortica si è fatto anticipare la presenza di un solo centravanti dicevo mi crea non pochi problemi e non poche ansie io domani la partita contro l'inter la vedrò con grande tensione tra parentesi nel pomeriggio avrò una cerimonia funebre di una persona cara che è venuta a mancare per cui sarò anche abbastanza triste quindi non avrà l'umore diciamo ideale probabilmente ci sarà il clima che c'è oggi che fa schifo qui sta piovendo non solo dalle vostre parti qui in Emilia Romagna manca che venga non è con l'arca e poi siamo a posto no tanto tanto sta piovendo ha fatto un ottobre orribile a livello di clima per cui non sarò molto diciamo così d'umore roseo sarà un po di umore nero sperando di essere smentito dai fatti ovvero che la juve faccia una grande partita ma ecco il mio dubbio dubito fortemente che domani noi faremo una grande partita vi spiego perché perché ultimamente noi a milano siamo sempre usciti con i cocci rotti e perché secondo me noi non abbiamo la forza la capacità nonostante le idee di tiago motta che ripeto lo insisto prima che qualcuno mi fraintenda a me piacciono e tiago motta deve essere lasciato lì a lavorare anche se dovessimo perdere con l'inter lo criticherò se sbaglierà delle mosse criticherò la sconfitta se dovessimo perdere però tiago motta va lasciato lavorare perché se non lo lasci lavorare poi facciamo la fine l'ancelotti che l'abbiamo mandato via e poi ha vinto tutto dappertutto tutto dappertutto una squadra forte ovviamente e se tu metti un allenatore forte in una squadra piccola non vince Trapattoni ha fatto schifo a Cagliari Trapattoni con la juve con l'inter ha vinto e come si ha vinto Ancelotti stesso discorso per cui quando si parla di inter juventus di domani si parla della partita che secondo me secondo me a differenza di tiago motta che ha detto che non sarà uno spartiacque io in questo caso non la penso come lui io penso che sarà uno spartiacque vi dico perché perché se noi dovessimo vincere i giocatori prendono un'autoconsapevolezza di se stessi potentissima che sarà una specie di abbrivio per il continuo e proseguo del campionato e che sarà utilissimo per le partite successive perché i giocatori diranno cacchio abbiamo battuto l'inter che è la più forte perché è la più forte perché secondo me l'inter rimane la più forte come rosa come gioco come 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 esperienza come tutto se dovessimo pareggiare rimane lo status quo è banale come affermazione lo so ma è così lo status quo noi riprendiamo poi mercoledì con il Parma loro andranno a giocare fuori casa chissà magari l'inter pareggia noi magari vinciamo magari gli scavalchiamo oppure rimaniamo agganciati no ricordandosi sempre del calendario comico che ha il Napoli perché il Napoli domenica gioca con Lecce quindi farà tre punti e si allontanerà sicuramente il caso di pareggio di inter juventus il Napoli si allontana ancora di più dalle due inseguitrici se l'inter vince o la juve vince la musica ovviamente cambia se perdiamo e fra poco vi dirò il mio pronostico se perdiamo credo che i giocatori che noi abbiamo che sono più o meno gli stessi dell'anno scorso perché l'ho appena detto con Menas non c'è con Zales non c'è Douglas Lewis non c'è a parte con Sensao e Turam gli altri Bremer è stato sostituito meravigliosamente da Kalulu gli altri li conosciamo tutti no sono Gatti sono Gambiaso sono Locatelli sono Ildiz quelli dell'anno scorso non vorrei che avessero per l'ennesima volta il tracollo mentale che hanno avuto l'anno scorso perché dopo la sconfitta a San Siro hanno mollato gli ormeggi come si dice in gergo Marinaro e non c'è stata più storia l'inter partita si è allontanata addirittura il Milan ci ha preso e scavalcato per cui io sono convinto che la partita domani debba essere come minimo pareggiata e andrebbe benissimo io sarei soddisfatto di un pareggio viste le condizioni attuali in cui versa la Juve dove ha tantissime assenze giocatori che non sono ancora entrati in condizione da dimostrare il loro valore e soprattutto perché l'Inter è uno squadrone perché questo va detto perché l'Inter toglie Mkhitaryan e mette frattesi toglie Turam o Lautaro non so se ci sarà perché so che mancano anche alcuni giocatori a loro e mette Taremi insomma non è proprio messa malissimo l'Inter voglio dire come rosa noi se togliamo Locatelli mettiamo chi mettiamo mettiamo Turam mettiamo fagioli mettiamo cioè noi non siamo ancora diciamo pronti per avere una rosa che ci garantisca ma soprattutto dovuta agli infortuni lì non è colpa né di Giuntoli né di Tiago Motta gli infortuni sono scalogno sono sfortuna fatto sta che però la partita di domani sarà veramente difficoltosa per noi qual è il mio pronostico vi chiederete tutti quanti voi che purtroppo li sto azzeccando purtroppo li sto azzeccando ricordate che con la Lazio dici che di Riffo di Raffa l'avremmo vinta abbiamo proprio vinto di Riffo di Raffa abbiamo vinto con un autogol della Lazio io sono convinto che domani pomeriggio perché giocheremo le 18 la Juve perderà perderà e anche male non per dire 2-3-0 ma perderà male proprio subendo l'Inter subendo il gioco dell'Inter le ripartenze al fulmicotone dell'Inter perché noi purtroppo abbiamo un possesso palla molto lento e molto prevedibile a meno che domani la Juve si svegli e faccia un possesso palla a ritmi elevati perché diceva Tagomotta le transizioni sono molto importanti è certo che sono molto importanti perché se la transizione ti porta vicino al gol o al gol è fatta bene ma se la transizione ti porta a sprecare poi al limite dell'area avversaria come abbiamo fatto praticamente sempre quest'anno salvo tra quattro casi è chiaro che le transizioni sono importanti sì per cui staremo a vedere io ripeto vuoi un po per scaramanzia lo ammetto lo voglio dire in maniera molto aperta e molto netta prima che qualcuno mi dica che sono troppo negativo io ci metto molto a scaramanzia perché cantare vittoria dire domani andiamo a Milano con l'Inter gli facciamo un culo così no non esiste proprio non esiste e neanche che domani sono sicuro che l'Inter non uscirà la Juve non uscirà sconfitta da San Siro io sono convinto che la Juventus debba guarire da un male oscuro che lo ha la tanagliata dai tempi del finale di Sarri perché finale del campionato nostro è stato pessimo con Sarri abbiamo avvenuto il campionato ma ci siamo ci siamo abbiamo rischiato di perderlo poi compirlo non pervenuta la Juventus i trani con Allegri non pervenuta la Juventus con Tiago Motta cominciamo a vedere i primi scocchioli per cui credo che qui non qui bisogna andare al di là degli allenatori bisogna andare al di là tante altre cose bisogna guardare i giocatori Ancelotti ha sempre detto dammi i giocatori forti che vinco sono i giocatori forti che fanno diventare grandi gli allenatori e ha perfettamente ragione Carletto saggio grande allenatore saggio se tu hai gli giocatori che lui li definisce grandi Tiago Motta ma non sono grandi la Juve di grandi giocatori a parte forse Bremer e presumo Calulu che sta dimostrando di essere un grande giocatore non ne ha la Juve non ha grandi giocatori in questo momento io non vedo grandi giocatori se mi dovessero dire a Brucciapelo Max dimmi il nome di un grande giocatore della Juve escludi Bremer e Calulu non ce n'è neanche uno l'Inter ne ha l'Inter ne ha Varello è un grande giocatore Cialanoglu è un grande giocatore Turam secondo me è un ottimo giocatore Lautaro è un grande giocatore cioè signori Di Marco nel suo ruolo è un grande giocatore è l'uomo che fa più cross è l'uomo che mette più palloni in mezzo è l'uomo più pericoloso sulla fascia e lì bisognerà vedere chi lo contrasterà domani per cui di fronte a due squadre no se dovessi soppesare sulla bilancia delle idee l'Inter e Juventus la bilancia al mio modo di vedere ancora adesso pende a favore dell'Inter ovvio che da Juventino e non da opinionista spero che la Juve vinca e che facciamo un culo così all'Inter ma se io mi mettessi davanti a una videocamera a dire se stronzate avreste ragione di non seguirmi dice questo qua parla sempre forza Juve viva la Juve vince la Juve siamo i più forti siamo i più belli siamo i più bravi no non esiste non esiste non siamo i più forti non siamo i più belli non siamo i più bravi la Juventus ha delle grandi difficoltà ha una rosa incompleta e molti infortunati per cui secondo me domani o 2 a 0 o 1 a 0 ma veniamo a casa con le rosa rotte poi ripeto spero di sbagliarmi fatemi sapere se siete d'accordo con me se sono stato troppo negativo se secondo voi sono stato addirittura ottimista fatemelo sapere per me la partita di domani sarà uno spartiacque perché in caso di sconfitta dopo ci saranno molte ripercussioni a livello psicologico secondo me in tutti i sensi vi auguro buona giornata ovviamente ciao a tutti grazie a tutti